Ciao a tutti e ben ritrovati qua sul canale, come potete vedere siamo qua con il primo mazzo Lotte di Lega che sono riuscito a trovare Palchia originale via Astro e andiamo a vedere un po' qual è il suo contenuto già il pack jeans è bello qua l'ho dovuto tirare via, è venuto via perché sul retro c'era questo scocciato ok quindi a tirarvi lo scoccio vedete è venuto via un po' di confezione qua la solita cosa, il suo contenuto del mazzo eccetera eccetera ok e andiamo a vedere qual è il contenuto così non perdiamo tempo via questo via, allora come potenziare il tuo mazzo Lotte di Lega ti danno anche alcuni suggerimenti ok che male non fa, allora abbiamo due medaglietti, due metà gli chiamano medaglie ok, uno e due e li mettiamo qua da parte, poi, 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 qua, non c'è più spazio questo è figa, via Astro e Plasticon Shoshi figa, figa, mi piace poi, il portamazzo i soliti dadi che ormai ce ne ho miliardi e andiamo a vedere un po' come sono queste sei carte qua che non le voglio rovinare per niente allora partiamo Palchia Originali V sono tre per poi Gremadonna Greninja Lucente e due Palchia Originali di Astro poi qua abbiamo il deck che andiamo scarpe da trekking Biboral Melania Energia Acqua Ordini del Capo Super Pass Vip Lotta Cintura Scelta Perula Bidoff un'altra acqua Corno Echeggiante Super Vip Lotta Ricerca di Energia Acutezza Acutezza Allo Centro Peso Ball un altro ordine del capo Scarpe da trekking cioè proprio scambio Sophora Baskulin di Isui Centro Scelta Bidoof un'altra energia Perulia Melania un'altra Ultra Ball Super Pass Vip Lotta Biboral Petra Scambio Melania Ultra Ball cioè comunque sono praticamente in molti due o tre per ma io comunque ve lo faccio comunque vedere perché così poi in alcuna cioè poi così da poter anche cercare di vedere se manca qualche energia Biboral Biboral Bidoof e Perulia così da riuscire poi completare i vari set comunque questo è il deck però comunque cioè i pezzi forti secondo me no? rimangono questi che vanno nella collezione e niente signori abbiamo visto questo deck e ci vediamo poi a un prossimo appuntamento Balla Balla